L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Allora, incominciamo carissimi con il nostro pensiero E vorrei appunto a riguardo Soffermarmi su quello che ha detto la Madonna Nel messaggio di ieri Che comunque ha colpito tanti Infatti mi sono arrivati tanti e-mail Alcuni di 5 o 6 erano pubblicati sul blog Sulla affermazione della Madonna Appunto che l'umanità ha deciso la morte Staccata così ovviamente come l'altra Satana regna staccate dal contesto In cui la Madonna le ha poste Diventano espressioni molto pesanti Però a mio parere Premesso che la Madonna Le colloca sempre in una visione salvifica Cioè fa queste affermazioni Per motivare la sua presenza Per motivare il suo intervento di salvezza E ci rassicura Come quando ha detto Satana vuol distruggere le vostre vite E il planeta sul quale vivete Ma poi ha detto Ma Dio vi ama E manda a me Per salvare le vostre vite E il planeta sul quale camminate Dunque premesso questo Che è lo stile della Madonna Da sempre Cioè manifesta i pericoli E nel medesimo tempo Ci indica e rimedica Poi l'amore di Dio La sua presenza E poi ovviamente La nostra risposta All'appello A ritornare a Dio Però Attenzione cari amici Queste espressioni della Madonna Comunque conservano Tutti il loro significato Cioè Quando la Madonna dice Satana regna Insomma Satana regna Quando la Madonna dice Che l'umanità Ha deciso la morte Vuol dire che l'umanità Ha deciso la morte Cioè vanno spiegate Queste espressioni E' chiaro che poi la morte Non ci sarà Nonostante che l'umanità Abbia deciso Perché I cuori possono cambiare Come ha detto la Madonna E lì cambierà Perché Lei ha detto Che ha il potere Dio ha il potere Con la sua grazia Di cambiare I cuori degli uomini Però Per questo Ci vuole la nostra preghiera La nostra cooperazione Cioè Non Non iludiamoci Non iludiamoci In questo grande combattimento Spirituale Fra il cielo E la terra Non iludiamoci Che ci siano Degli spettatori Cioè Noi Noi dobbiamo dare il nostro apporto Cioè c'è niente da fare Questo è Questo è certo Che la Madonna ci salva Ma col nostro contributo Con il nostro apporto Con la nostra risposta E' così Allora Io però Questa mattina Mi sono riproposto Di analizzare le frasi così com'è Perché Fotografo una situazione Cioè Noi come va il mondo Non lo sappiamo Cosa decidono i grandi del mondo Non lo sappiamo Quindi Poi Quel che decide Il potere delle celebre Non lo sappiamo E la Madonna Che ci ha rivelato In tutti questi 40 anni Il piano di Satana Di distruzione di morte Della Chiesa Delle anime di noi Noi stessi La nostra vita Il nostro futuro La Madonna ce l'ha rivelato Ma ce l'ha rivelato E tutte le volte Diciamo così Ha vinto lei Perché Almeno due o tre volte Nel corso di questi 40 anni Abbiamo passato Il pericolo Della autodistruzione Del pianeta Su quale viviamo E di noi stessi E la Madonna Li ha sempre sventati Questi pericoli E li sventerà Anche nel futuro Nonostante che l'umanità Abbia deciso per la morte Allora Come già Ha detto Maria E come già Ho detto anche io Ieri Le commetto a messaggio Facendo appunto Riferimento alle sue parole La parola morte Va intesa In un senso Diciamo così Completo Non dimenticando Quello che la Madonna Mette in un messaggio Di qualche tempo fa Non molto tempo fa In un Natale Credo di 3-4 anni fa Ha detto Le anime sono malate E vanno verso La morte spirituale Quindi C'è una morte Che è la seconda morte Di cui parla Francesco D'Assisi C'è la morte Dell'anima La morte dell'anima Avviene Col peccato mortale Un vivo peccato mortale Causa la morte dell'anima Però si può risorgere Col pentimento Si può risorgere Col confessione E diventa Una morte Pericolosa Quando Questo peccato mortale Si indurisce Si incancrenisce Diventa Come dire Una presenza ingombrante Prende possesso Del cuore Diventa Uno stato Di peccato grave Diventa La chiusura A Dio Diventa Il rifiuto Di Dio E allora Cari amici Si entra Nell'imperlitenza Finale Allora Questa è la morte spirituale Cioè la morte spirituale Incomincia col peccato mortale E poi Arriva la deriva ultima Che è l'imperlitenza finale Allora L'imperlitenza finale È una deriva Verso la quale Sta andando il mondo contemporaneo Ma questo l'ha detto San Giovanni Paolo II Nel suo libro ultimo Memoria e identità Ha detto che Il loro totalitarismo Che esclude Dio Dalla vita umana Cioè il mondo senza Dio Lui che parla la Madonna San Giovanni Paolo II Lo chiama il nuovo totalitarismo E dice In questo suo libro Un libro di intervista Col suo segretario Cardinal Givis San Giovanni Paolo II Dice che l'umanità Col nuovo totalitarismo Cioè Col pensiero unico Come lo chiama Papa Francesco Cioè una visione Della vita atea Completamente immanente Che è stata elaborata Dalla cultura europea A partita dal 1700 Insomma poi Poi portata avanti Nei secoli Successivi Fino a diventare Diciamo Il modo di pensare Di vivere Delle classi colte Dell'umanità Colte o comunque Diciamo pure Diciamo pure Classi Le elite Chiamano le elite Perché comprende Tutto Insomma Quelle culturali Quelle militari Quelle economiche Tutto quello che volete voi Il nuovo totalitarismo Il nuovo totalitarismo È diventata La loro religione E la loro opera È un mondo nuovo Senza Dio La Madonna Già Ci ha Accompagnato A partita 1916 Dal 1900 Dal Scusate Dal 1997 Ad aprile La Madonna Dede il suo primo messaggio Del mondo nuovo Senza Dio Per il quale Non c'è futuro Messaggio Che ha ripetuto Anche Oggi Questa espressione Ha ripetuto Tantissime volte E cioè La Madonna Ha detto Appunto Che Dio Mi ha inviato Per istruirvi Che senza Dio Non avete futuro Cioè Per il mondo Nuovo Senza Dio Non c'è futuro È un'espressione Che la Madonna Ha ripetuto Increscendo Fino ad oggi Qual è dunque La novità Di questa frase L'umanità Ha deciso Per la morte La novità Di questa frase È appunto Che è il punto D'arrivo Ma Che cosa Ha deciso Ha deciso L'umanità Ha deciso Per l'umanità Per l'umanità Cosa dobbiamo dire I potenti Della terra Che però Riescono Ad avere Grazie Diciamo così Al loro potere Diciamo Al loro potere Soprattutto E' chiaro Leader Una volta La Madonna Ha detto Di pregare Per il leader Della chiesa Del mondo L'ha detto Un paio D'anni fa In una Esultazione Che ha fatto Che ha fatto A Ivan Allora C'è questa decisione Radicale Di non Convertirsi Di non Accettare L'appello Alla Conversione Punto Primo E' E' arrivata La decisione Di chi Conta E cioè I leader Russi Americani Cinesi Di un Confronto A livello Di chi Sarà il primo Nel mondo Usando Tutte le armi Che sono Necessarie Comprese Quelle Nucleari Quindi La parola Morte Ha un Significato Spirituale Cioè La decisione Che in questo Mondo Ci siamo Noi Comandiamo Noi Si tratta Di decidere Chi è Il più Grande Ce la Regoliamo Fra di noi Usando Tutti i Mezzi Che abbiamo Questo per me E' il significato Di quello che Metto La Madonna Cioè Che l'umanità Ha deciso La morte Avendo Deciso La morte Spirituale Cioè Che sono Loro I padroni Del mondo Hanno Messo Se stessi Al posto Di Dio Non Hanno Il timore Di Dio Non Intendo Rispondere A Dio Voglio regolare Le faccende Fra di loro Anche a costo Di distruggere La terra Ora Voi Direte Ma non è così Non è possibile La Madonna Vede quello che Noi non vediamo Noi cosa sappiamo Noi sappiamo Quello che ci Trasmette L'informazione Mondiale Ma l'informazione Mondiale È controllata Scusate Ma vi rendete Conto Della grazia Che abbiamo Dei messaggi Dalla Madonna In questi Quarant'anni La Madonna Ci ha detto Ciò che non Era possibile Sapere Ma che poi Storicamente Si è rivelato Vero E ci ha svelato La vera lotta Che c'è Fra lei E il drago Fra i seguaci Del drago E gli apostoli Di Maria Quindi quando Madonna dice L'umanità Ha deciso La morte Vuol dire Che hanno deciso I potenti Del mondo Nella loro Superbia Hanno deciso Di regolare Fra loro i conti Sulla supremazione Del mondo Usando Tutti i mesi Che hanno E quelli che Saranno lì Per perdere Useranno I mezzi Distruttivi Senza Come Sansone Con i filistei Queste cose Ormai Sono Non più Non più Ipotesi Per noi Sono ipotesi Per loro Sono già Decisioni E per quello Che la Madonna Ha detto Che L'umanità Ha deciso La morte Ovviamente A questo punto Noi Dici poveri Noi Ma la Madonna Ha anche detto Che lei È presente E che i cuori Possono cambiare Qui Entra in campo Il nostro compito Che è il compito Della preghiera Incessante Della preghiera Per la pace Per il digiuno Per la pace Dell'imperio Della conversione Più le persone Si convertono E più L'impero Di Satana Si indebolisce Si fa Più festa In cielo Per un giusto Che si converte Cioè La conversione D'un giusto È una grande Vittoria Cioè La conversione Ad un peccatore È una grande Vittoria Cari amici Quindi Questo è Il quadro Nel quale Dobbiamo In qualche modo Porci Per capire La situazione Che è gravissima Cioè Veramente Satana Impugna la situazione Ma in apparenza Perché Dio Ha il potere Di cambiare i cuori Personalmente Ritengo Che valga Quello che ha detto Maria Che comunque È vero che non conosce Il decimo segreto Però conosce tutti gli altri La quale ha detto Che Questa guerra Può finire Se noi Intensifichiamo Le preghiere E non è detto Che non finisca Nonostante Questa affermazione Che l'umanità Ha deciso la morte Non è detto Che non finisca Perché Mi sto rendendo conto Che il futuro È molto più Come dire Complesso Di quanto Noi Non pensiamo Mi fermo qui Per dire Caramici La situazione È come dice La Madonna Ma la Madonna Dice anche Che qui È presente E che i cuori Possono cambiare È il nostro momento Adesso Di intensificare La preghiera Per la pace E la nostra Conversione È il nostro Cammino spirituale E come ha detto La Madonna Sono qui Perché I vostri cuori Siano piedi di gioia Per indicare La via della speranza Ecco Ho risposto A quei Molti Che mi hanno scritto E hanno Scritto anche Delle bellissime lettere Che ho pubblicato Sul blog O di oggi Andate a leggerle Poi con calma Perché Mi sembra Che avrei avviato Un dibattito Su queste tematiche Ma in un modo Bello Sia Un bene spirituale Per tutti L'almanacco della fede Di padre Livio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.